ma mi spieghi come è possibile che ci mancano così tanti soldi ma fammi chiamare quel pagliaccio pronto ma mi spieghi come è possibile che da quando sei rientrato abbiamo il conto più in rosso di akira e poi mi spieghi dove cazzo sei finito con la mia mercedes sono dieci giorni che ti cerco dove cazzo sei era il giro e poi mark mercedes e macchina di merda direttore ha bisogno di macchina più bella più veloce bella sali in macchina bella veloce cazzo bella macchina stavolta ti sei davvero superato ma ma che cazzo c'hai sulla faccia la mascherina dove hai vissuto fino ora moldavia è obbligatoria sì ok ma la mascherina si mette in faccia e non sugli occhi va bene ma comunque dove stiamo andando così di fretta stiamo andando al nostro nuovo ufficio nuovo ufficio perché cosa c'ha quello vecchio che non andava bene quello vecchio non è più sicuro non è più sicuro va bene guarda non me ne frega niente intanto se questa è la nuova macchina non vedo l'ora di vedere il nuovo ufficio sì nuovo ufficio eccoci arrivati dal visto che bello visto che bello visto che bella merda ma come bella merda avevo finito tutti i soldi con la macchina come finito tutti i soldi con la macchina e dove cazzo è finita tutta la mia roba e soprattutto da quando è che tu compri le macchine questo l'importante è che ci fai forever e noi lottiamo e vinciamo e diventiamo ricchi e campioni eh sì ok campioni ma prima di diventare campioni e riprenderci quello che è nostro io voglio scoprire una cosa scoprire che cazzo è stato quel infame che mi ha colpito con una sediata a video no guarda bene scusi dilettante e questo è che cos'è e cosa c'era scritto su quel biglietto eh leggi la tua come sempre al mio fan numero uno con affetto totò schillaci e chi è totò schillaci è il gran vigile del teciterun oh signor stai pensando quello che sto pensando io sì ma dillo prima tu qui qualcuno mi vuole mancare di dispetto ecco Grazie a tutti.